Stormi di musica con Gianni Manuel Scala al paradiso Starway to Heaven Brano del gruppo musicale britannico dei Led Zeppelin Starway to Heaven è considerata la canzone più famosa nella storia della musica e del rock È a tutt'oggi una delle più richieste dalle stazioni radioamericane Nonostante non sia mai stata pubblicata come singola Fu invece pubblicata negli States come disco promozionale E come EP acustico in Australia La solo di chitarra contenuto nel brano È considerato dalla rivista Guitar World il migliore mai eseguito La canzone venne eseguita dal vivo per la prima volta il 5 marzo 1971 Alla All Star Hall di Belfast E rimase nella scaletta dei concerti dei Led Zeppelin ininterrottamente dal 1975 al 1980 Il brano fu suonato anche a Live Aid nel 1985 Alla festa per il quarantesimo anniversario della Atlantic Records nel 1988 E da Jimmy Page in versione strumentale durante i suoi tour da solista A proposito della canzone, Page disse durante un'intervista a Rolling Stone La canzone ha cristallizzato l'essenza della nostra band Aveva tutto e ci ha rappresentato sempre al meglio È stata ed è una pietra miliare Ogni musicista vuole fare qualcosa di duratura Qualcosa che rimarrà a lungo nel tempo Noi lo abbiamo fatto con Starway to Heaven Storie di musica Grazie a tutti 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 Grazie a tutti